Il Dissipatore Sì, vabbè. Ecco fatto. Vado a tirare fuori l'altro. E vai! Allerta. Temperatura critica. Funziona! Attivo Dissipatori d'emergenza. Oh oh. Redevate di farmela, signorine? Riprovateci! Via! Via! No! Attenta! Ah, merda! Si sta surriscaldando! Va verso la baia! Vuole usare il mare per raffreddare l'horus! Luce dell'ascito. E noi come facciamo a fermarlo? Là! La parte inferiore. Dobbiamo distruggere i dissipatori. Pensa a distrarre l'ondra dall'alto. Io attaccherò da sotto. Scusa? Vuoi farmi volare da sola? Impari velocemente! Bene! Adesso tocca a noi, bello! Bene. Prima raggiungo l'horus. Poi posso distruggere il dissipatore. Non è così male volare! Vai alla grande! Non deve arrivare al mare aperto! Seika, devi trattenere l'horus sulla riva! Subito! Faccio da esca! Su, puoi farcela a noi! Bene, bene. C'è un insettino impertinente qui da qualche parte. Sorpresa. Bene, pensiamo al dissipatore. Aiuto! Quasi mi colpiva! La rossa non ti rivedrà tutta intera. Assegnati! Ormai sei spacciata. Stupida montagna di Rottami! Stupida montagna di Rottami! Oh-oh! Vola, bello! Però non passarci sotto! Non mi starà dietro! Insopportabile moscerino! Ah! È bluca! Non sobra! Non sobra! Non sobra! Non sobra! Presto brindarò alla vostra morte! Vi chiave! Sei convinta che questo servirà a qualcosa? Non è facile schivare il volo! San Zara fastidiosa Non basterà salvarti Adesso tocca a me Attento, Aloy! Il demone di metallo si sta caricando! Via, Aloy! Ci sei ancora là sotto? Non è così facile battermi Così vi mando degli amici a tenervi compagnia Londra, invia altri corrottori! Ci penso io! Saika, tienilo occupato! Io penso alle macchine! Sarà facile attirare la sua attenzione! Forza, Relitto Ambulante! Vieni a prendermi! Non scappare! Mancata! Brucerai come una falena nella fiamma! Vede così! Tutti sistemati! Posso pensare ai dissipatori dell'horus! Motti quelle ali! Forza! Vado in picchiata! Ha una specie di coperchio Posso usare la lancia Devo salire lassù Scalerò una delle gambe Aloy! C'è un altro dissipatore sul fianco! Ma una specie di coperchio! Lo esamino No! Non mi faccio colpire! Ti schianterai e brucerai! Scalare un'horus in movimento! Bene! Semplice! Meglio che fare da Esca! Non riuscirai a schiacciarmi! Dovresti ringraziarmi Ti risparmio la furia di Nemesi Forza! Bello! Vola dritto! Continua! Ci sei quasi! Oh! Ora! Provo una manovra! Funziona! È vulnerabile! E lo riscaldiamo! Schivato! Hai più carattere di tua sorella! Mi piace! Devo insistere E colpire il dissipatore Sarebbe questo il piano? Patetico! Attenta! Piavono fiamme! Non mi prenderai! Quello lo chiami volare Non siete altro che due perdenti Una in meno Questa merda! Questa mi ha fatto male! Oh oh! Sta caricando a noi! Vattene! Mancata! Che peccato! Sta ferma! Ti concederò una morte rapida! Ci sta spostando! Credo che Londra voglia entrare in acqua! Chissà che caldo lì dentro Non credo di poter Continuare a distrarlo! Fa impossibile Che sto facendo? L'abbiamo spento? Si sta raffreddando, credo È l'occasione ideale Sta in aria per ora Vado a vedere Oh non è ancora finita Attenta Aloy! Loro stringe le braccia! Ottimo! Siamo solo noi due Aloy! È il momento di vedere Di che pasta sei fatta! Dove vado? Continua a seguirci in volo! Va bene! Ha dei dissipatori Sulle braccia! Bene! Si prepara ad attaccare! Sistemata! È tutto inutile Ora il dissipatore! Loro si ha stampato Una torretta! Sotto di te Aloy! Splendido! È la tua occasione! Percorvo! Credi di essere in vantaggio? Per niente! Proviamo a cambiare approccio Che cosa combina ora? Sta caricando i cannoni! Oh oh! I portali dietro sono aperti! Attacco in arrivo! Ho preso! Un altro è andato! Perdete soltanto tempo! Beh, se ne sei convinto tu! Io ti schiaccerò! Poi toccherà la tua amica! Attenta! L'hai preso! Ancora uno! Maledizione! È furioso! Bene! Bene! Occhio alla sabbia! Scappa a noi! Prendi questo! Oh oh! Peccata! È tutto inutile! Quello era l'ultimo! Attenta! Là! L'intessipatore principale sul torace! Non fermiamoci! Che la sei andata! Che... Seika! Vieni a prendermi! Arrido! Londra sta andando più a largo! Non deve fuggire! È tutto tuo! L'ultima esplosione ha fatto breccià nella corazza! Devo entrare e trovare Londra! Si sta fermando! Puoi raggiungerlo! Si sta rompendo! Benissimo! Devo entrarci prima che Londra lo ripari! Una luce potrebbe venire dall'interno! Ecco la falla! Posso entrare da lì! Sono entrata! E ora troviamo Londra! Aloy! Londra sta riportando l'Aros in superficie! Mi arrampico e lo cerco! No! Londra deve essersi collegato per controllare questa cosa! Perciò è vero! Sarà la sfera di elaborazione sul davanti! Prendimi se ci riesci! Ehi! Come procede? Ci sono quasi! Tu? Londra ha provato a colpirmi! Ma sono più veloce! Resisti solo un altro po'! Di qua si va alla parte anteriore! Come arrivo dall'altra parte? I condotti non restano aperti a lungo! Dopo aver schiacciato te, sarà il turno della rossa! Sì, certo! Come no! Ci sono! Forza, riprenditi! È collegato alla sfera di elaborazione! Se la distruggo posso fermare l'Aros, ma devo raggiungerla! Compensazione violazione di sicurezza nel settore 5A, in corso! Bene, quel nodo ha bisogno di un nuovo routine! Alimentazione saltata! Devo bypassarla! Oh! Ah, rischio di finire fritta! Ok, devo pulire di nuovo i cilindri! Merdo, sono la camera di replicazione 2! Isolo la camera di conversione anteriore! A noi! L'Aros si sta dirigendo verso la costa! L'ho quasi raggiunto! Aspetta! Ah, tu... Non sei la benvenuta! Muori! Ci vuole ben più di così! Oh, non hai visto ancora niente! Arredo, farò più! Il connettore... Sembra piuttosto fragile! Rimetta insolente! Ti piace, eh? Bene, passo agli altri connettori! Non puoi stare ferma! Che cosa pensi di ottenere tu? Ah, ne ho abbastanza di te! Ah, una distribuzione! Staccherò la corrente! Puedevi morire! Ehi! Ah! Sporreggati a morire! Sei fritta! Non basta! Devo colpire l'altra! Adesso basta! Serve un altro modo per disattivarlo! Quei cavi alimentano la sfera! E lo scudo... Merda! Lo scudo si disattiva mentre Londra mi attacca! Senti come scorda! Senti come scorda! Prendi! Fringi! Ora sei mia! Così moriremo entrambi! Sei agile e bisogna... Voi due non mi sconfiggereete! Io fonderò un nuovo mondo! Sarò adorato dai miei fedeli seguaci! Mentre voi... agonizzerete qui! Finché Nemesi non annienterà il vostro patetico pianeta! Come preferisci! Di carboni iniziano! Indietro! Scassa! No, non vorrei finire cose! Non mi sfottirai! Ancora una! Sta andando tutto a fuoco! Devi uscire da lì! Manca poco! No! Fine della corsa! Arrostita! Preso! No! La sfera è andata! Dovrà usare la lancia per fermare questo mostro! Sei brava a rovinare tutto, vero? Seika, sono nella testa dell'horus! Mi serve un passaggio! Arrivo! Merda! Forza! Vieniti! Non sono sicura di saper atterrare! Si può fare meglio! È fatta! Mi chiedo che cosa avranno pensato all'insediamento di tutto questo! Un demone di metallo che torna dalla morte! Dovrai tornare dall'ammiraglio per scoprirlo! Vai, tranquilla! Ti raggiungo! Non farmi aspettare troppo! Silence! È finita! Londra è morto! Eccellente! Ha opposto resistenza! Sì, puoi dirlo forte! Aveva... un horus! Ah sì? Deve essere stato difficile! Persino per te! Mi ha aiutata un membro dei Quen! Ti sto inviando dei dati dall'impianto di Londra! Vedi cosa riesci a scoprire! I diari di Londra saranno senz'altro affascinanti! Ti aggiornerò sui miei progressi! Ora che Londra è andato potrai curiosare nelle rive ardenti! O potrei andare a Ultima Spiaggia e tornare con Seika! A presto! 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 A presto!